5 Stelle è simboleggiato dall'iniziativa di servire ai tavoli per autofinanziamento, nelle vesti di cameriere illustre questa volta c'è stato Beppe Grillo e sentiamo che cosa ha detto. Non c'è più niente, questa diarrea politica che è andata a finire in una cloaca nazionale, ormai ve ne siete resi conto, abbiamo leader senza la base, noi invece siamo una base senza leader, dovete cominciare a capire questo concetto, noi condividiamo le cose con i cittadini.